Buonasera, mi chiamo Gemma Gemmiti e sono la fondatrice della casa editrice Gemma Edizioni. Questa sera voglio leggervi un testo scritto da Jack Folla, dedicato a tutte noi. Più dei tramonti, più del volo di un uccello, la cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita. Quando si rimette in piedi, dopo la catastrofe, dopo la caduta, che uno dice è finita. No, finita non è mai per una donna. Una donna si rialza sempre, anche quando non ci crede, anche se non vuole. Non parlo solo dei dolori immensi, di quelle ferite da mina anti-uomo che ti fa la morte o la malattia. Parlo di te, di questo periodo che non finisce più, che ti stai giocando l'esistenza in un lavoro difficile, che ogni mattina è un esame, peggio che a scuola. Te, implacabile arbitro di te stessa, che da come il tuo capo ti guarderà, deciderai se sei all'altezza o se ti devi condannare. Questo ogni giorno, e questo noviziato non finisce più. E sei tu che lo fai durare, oppure parlo di te, che hai paura anche solo di dormirci con un uomo, che sei terrorizzata, che una storia ti tolga l'aria, che non filtri con nessuno perché hai il terrore che qualcuno si infili nella tua vita. peggio, se ci rimani presa in mezzo tu, poi soffri come un cane. Sei stanca, c'è sempre qualcuno con cui ti devi giustificare, che ti vuole cambiare o che devi cambiare tu, per tenertelo stretto. Così ti stai coltivando la solitudine, dentro casa. Oppure te la racconti, te lo dici anche quando parli con le altre, io sto bene così, sto bene così, sto meglio così. E il cielo, e il cielo si abbassa di un altro palmo. Oppure, oppure con quel ragazzo ci sei andata a vivere, ci hai abitato, Natali, Pasqua. In quell'uomo ci hai buttato dentro l'anima, ed è passato tanto tempo, e ne hai buttata talmente tanta di anima, che un giorno cominci a cercarti dentro lo specchio, perché non sei più chi sei diventata. Comunque, comunque si è andata, ora sei qui, e so che c'è stato un momento che hai guardato giù e avevi i piedi nel cemento, dovunque fossi, ci stavi stretta. Nella tua storia, nel tuo lavoro, nella tua solitudine, ed è stata crisi, e hai pianto, oddio, quanto piangete, avete una sorgente di acqua nello stomaco, hai pianto mentre camminavi in una strada affollata, alla fermata della metro, sul motorino, così, improvvisamente, non potevi trattenerlo. E quella notte, quella notte che hai preso la macchina e guidato per ore, perché l'aria buia ti asciugasse nel guance, e poi hai scavato, hai parlato, quanto parlate, ragazze, lacrime e parole, per capire, per tirare fuori una radice lunga sei metri che dia un senso al tuo dolore. Perché faccio così? Cos'è che ripeto sempre lo stesso schema? Sono forse pazza? Ce lo siamo chieste tutte. E allora vai giù con la ruspa, dentro alla tua storia, a due, a quattro mani, e saltano fuori migliaia di tasselli, un puzzle inestricabile. Ecco, è qui che inizia tutto, non lo sapevi? È da quel grande fegato che ti ci vuole per guardarti così, scomposta in mille coriandoli, e ricomincerai. Perché una donna, una donna ricomincia comunque, ha dentro un istinto che la trascinerà sempre avanti, ti servirà una strategia, dovrà inventarti una nuova forma, per la tua nuova te. Perché ti è toccato di conoscerti di nuovo, di presentarti a te stessa. Non puoi più essere quella di prima, prima della ruspa. Non ti entusiasma, ti avvicinerà lentamente. Innamorarsi di nuovo di se stessi, o farlo per la prima volta è come un diesel. Parte piano, bisogna insistere, ma quando va, va di corsa. È un'avventura ricostruire se stesse, la più grande. Non importa da dove cominci, se dalla casa, dal colore delle tende, dal taglio dei capelli. Io vi ho sempre adorato, donne in rinascita, per questo meraviglioso modo di gridare al mondo. sono nuova, con una gonna a fiori, o con un fresco ricciolo biondo. Perché tutti devono capire e vedere. Attenti, il cantiere è aperto, stiamo lavorando anche per voi, ma soprattutto per noi stesse. Più delle albe, più del sole, una donna in rinascita è la più grande meraviglia, per chi la incontra e per se stessa. È la primavera a novembre, quando meno te l'aspetti.